ragazzi ragazzi buongiorno oggi ho deciso di fare la stesa con 78 porte e voglio vedere che porte ci sono davanti a te ma tu questi porte tra le virgolette ovviamente non li vedi questi porti saranno qualcosa di carino le possibilità che ti tipo si propone come può essere anche qualcosa di non tanto positivo ma tu magari stai per aprire questa porta quindi un messaggio così allora per iniziare io vado a descrivere a te che persona sei come ti vedono le carte e in che energia sei adesso se vedi che io ti sto descrivendo bene se parlo di te vai avanti se no si può cambiare il video su questo canale non noi non abbiamo variante però abbiamo tanti video quindi ok adesso pensa a te semplicemente ecco già scappano le carte 9 di bastone 9 di denaro sotto ce l'abbiamo e qui possono essere nuove opportunità lavorative materiale perché ha proprio la porta apre non sono anche la casa qualcosa di materiale acquistare un mobile acquistare un oggetto acquistare una macchina acquistare qualcosa che poi ti per te sarà molto importante acquistare un studio anche perché no andiamo tre carte per descrivere te chi sei te ok queste siete allora energia tua adesso cosa stai vivendo tre carte e vediamo questi porte cinque porte una due tre tre quattro cinque è un consiglio per te tuk tuk vedi sta per arrivare qualcosa stanno ti vogliono portare un regalo un pochietto un postino sta per arrivare un messaggio un qualcosa ti sta per arrivare proprio andiamo che persona sei uno di copia sei una buona persona pura un animo nobile mi viene da dire grande c'è amore dentro di te questo bambino con questo bambino con questo bambino con questo battesimo per me sei tu rinata battesata oppure dentro di te c'è qualcosa che nasce nuovo un nuovo amore può essere un nuovo amore per l'uomo come può essere un nuovo amore per la vita qualcosa di bello purificato benedetto mi viene da dire adesso io vedo che c'è la fortuna nella tua vita la carta di cambiamento ma con questa benedizione che ho visto prima quindi adesso tu stai cambiando tu ti stai cambiando di conseguenza si sta cambiando tutto intorno a te adesso in questo momento sei baciata della fortuna questo e qui tre di spade mancavano però anche se è baciata della fortuna c'è qualcosa di negativo secondo me la tua fortuna può dare fastidio a qualcuno irritare qualcuno perché queste tre di spade è una vecchietta è malata triste sola sta ce l'ha una bambola voodoo in mani e mette aghi guardate vi faccio vedere da vicino quindi tu sei questa vecchietta o c'è qualcun altro insomma c'è anche questo vediamo apriamo tre di spade aprite no tu sei avanti a te ti si aprono diversi porti diverse opportunità e c'è qualcuno a chi dà fastidio si può vedere chi è questo qualcuno a chi dà fastidio a postino a chi dà fastidio a un mago secondo me è un maschio è un tipo un ragazzo che vuole essere leader un ragazzo carismatico un ragazzo che è un oratore parla lui sa parlare a questo uomo può dare fastidio al tuo successo non so chi è questo uomo un uomo che pensa di saper fare tutto lui insomma è lui bravo non so se è vero così però una persona anche abbastanza manipolativa manipola gli altri può essere bravo leader bravo oratore ripeto organizzatore però tu a lui dai fastidio il tuo successo da fastidio quindi vediamo se il suo fastidio può complicarti la vita ma non è che stai facendo le magia veloce non può farti del male perché quello che tu hai nella vita te lo sei meritata e tutto quello che hai te te lo sei guadagnato strada facendo e scelte le tue scelte ti hanno condotto ti hanno portato a quello che stai vivendo adesso quella persona ti sta osservando e un po ti sta odiando vediamo così andiamo a vedere cosa stai vivendo e adesso un periodo cieco dove tu sei cieca tu stai vivendo qualcosa non si sa dove stai andando però stai andando è un po' cieca quindi sicuramente ci sarà un po' di pressione dentro di te quella non so come andrà a finire non so dove mi sta portando la mia strada i miei gambe dove mi stanno portando io non lo so però io continuo a camminare e questo continuo a camminare e questa ragazza cieca può non vedere la porta ed eccoci qua cinque porte che io ti faccio vedere visto che tu non riesci a vedere ti faccio vedere la carta vedete questo signore cieco lui sta andando non trova la porta perché non vede ok andiamo qua e anche a peso fantastico io ti vedo imprigionata un po' imprigionata in un qua ce l'abbiamo aquarium non vedi uscita sei bloccata ci sono le persone che ti guardano ti osservano però tu sei molto bloccata voglio vedere cosa ti blocca così tanto 3 di coppia ti blocca amiche ti bloccano cosa ti blocca 3 di coppia 9 di denaro ti blocca perché hai preso troppo non lo so hai preso qualcosa troppo sei stanca serve leggerezza serve amore serve divertimento serve compagnia amiche uscire festeggiare serve questo perché per questo motivo sei bloccata è regina di bastone può essere che la tua energia femminile è bloccata serve sbloccare aspetto fisico magari non ti piace o fisicamente tu non ti senti bene sbalsi d'umore stanchezza queste cose un periodo un periodo magari sei ammalata anche perché no io sono ammalata insomma è un periodo dove ti serve qualcosa che ti fa ridere che ti fa alzare le tue vibrazioni qualcosa di positivo ecco va bene questo ce l'abbiamo adesso andiamo a vedere le porte la prima porta questa porta parla di hobby di impegno di lavoro ok andiamo approfondire no io voglio approfondire con un'altra mazza prendiamo questo mazzo guarda ti sta aspettando un successo la felicità se tu prendi a fare qualcosa che ti piace fare secondo me quindi può essere un studio legato al lavoro imparare un nuovo lavoro o rendere un hobby rendere lavoro quindi tutto ciò che parla di un vedete qua abbiamo parliamo di lavoro ma lui sta disegnando tatuaggi quindi è sempre un lavoro però un hobby perché lui con sorriso sta disegnando questo caprone che è questo con le corna e quell'altra ragazza sta vedendo che questa persona piace fare quello che sta facendo quindi tu in questo periodo devi sapere che ti aspettano le possibilità di fare qualcosa che ti piace e un forse anche renderlo lavoro migliorare l'atmosfera al tuo lavoro esistente essere felice avere un successo e qualcosa tipo un nuovo inizio parlando di lavoro la seconda porta e qua i pezzi persi pezzi mancanti in questo caso ce l'abbiamo una casa senza la porta e qua qualcuno ti deve riportare la porta quindi come si vive senza la porta si vive male ti sente al sicuro ti senti nudo no quindi c'è la possibilità di riportare un pezzo mancante un qualcosa che ti fa sentire nudo non protetto magari tu proprio avere questa sensazione di paura che tu non sei protetta di solito succede così con le donne forte quando tu sei come dico io e mamma e babbo lavori tanto sulle tue spalle ci sono tante responsabilità ti senti dentro di sé non al sicuro perché tu lo sai che tutto sulle tue spalle dipende tutta da te e di conseguenza abbiamo appeso il regina di bastone spesso queste donne che portano tante responsabilità addosso oppure vivono con un uomo che non fa niente ha fatto tutto lei lui prende la posizione passiva quindi queste donne possono anche ingrassare per creare per creare questa stabilità almeno di grasso no sentirsi più protetti quindi io non lo so se tu sei ingrassata o magari tu sei semplicemente stancata e ammalata oppure non ti piace in specchio insomma non lo so c'è qualcosa con la tua energia femminile insicurezza di te come femmina come donna quindi questa tua insicurezza sarà riportata a posto qualcuno lo porterà a posto vediamo chi come in che modo ti riporterà questa quattro di bastone e qui parliamo di persone e committiva comunità amicizia qui può essere che è qualcuno ti aveva tolto la tua un po rovinato la tua autostima e questo qualcuno quella la stessa persona te la riporterà insomma vicino a te ci saranno persone amici fedele e grazie a questa collettiva committiva ti riporteranno la porta indietro ti sentirai al sicuro così qua ancora mi viene potrebbe essere anche sempre semplicemente che a tutti costruisci una committiva non so un corso una committiva di hobby committiva avete un interesse in comune un lavoro in comune o un corso da studiare in comune qualcosa così e questa committiva ti aiuterà a sentirti più protetta più al sicuro quindi un'altra porta è questa andiamo a vedere la terza porta se dispare e l'internet quindi vediamo che cos'è il viaggio che cos'è questo non è non si tratta adesso non solo di viaggio qui parliamo di un viaggio in senso metaforico una nuova strada tu troverai una nuova strada un nuovo percorso da fare un percorso può essere anche spirituale una nuova vita insomma quindi una porta ti porta se tu aprirai questa porta tu puoi iniziare a fare qualcosa che è il tuo proprio percorso che tu devi fare tipo missione mettiamola così missione forse tu anche sai che di cosa io sto parlando perché all'inizio era uno e qua uno quindi secondo me qui parliamo di qualcosa molto interessante a livello lavorativo a livello tipo mi piace fare quello che sto facendo la tua missione andiamo con questo computer può essere che dovrei studiare proprio e qua parliamo di sincronicità e in questi sincronicità equilibrio perfetta sincronicità ci sono due persone vediamo che sincronicità guardate due di dinaro aperto con altri due di dinaro madonna questo che cos'è sincronicità a me mi viene da dire che tu veramente avrai dei segnali e sincronicità proprio per quello che ho detto prima e queste sincronicità questi segni ti porteranno a prendere una decisione giusta e questa decisione giusta è il matto il matto può essere il bebè che è nato lì un aggiornamento un rinnovo prima che è nato nella tua anima nel tuo cuore e dopo un nuovo amico un nuovo partner o un nuovo lavoro un qualcosa nuovo però sarai molto felice di vincere questa cosa nuova vediamo un po' sì avrai la pazienza di sì secondo me tu avrai pazienza di imparare qualcosa e studiare qualcosa conoscere qualcosa o qualcuno anche se non sarà facile e ci saranno delle problematiche però avrai l'abbastanza forza e voglia di proseguire e il risultato alla fine sarà buono sia e poi potrai fare il brindisi e festeggiare di cosa si tratta successo guardate successo e virtù ma io vedo proprio che la tua vita si sta sbloccando qualcosa di meraviglioso nuovo sta arrivando io penso che questo non si tratta di uomini si tratta di un tuo benessere di persona di donna perché tu farai qualcosa che ti piace fare da morire questa è la parola chiave di tutti i porti quindi con questi sei di spade potrebbe essere anche qualche viaggio da fare qualche spostamento e seguire qualcosa dal telefono dal computer dal schermo insomma e la temperanza alle fine guardate tutti questi porti ha aperto e ha aperto ultima carta la temperanza dove c'è la guarigione la serenità la pace quando tutto in perfetto equilibrio dove tutti senti al sicuro serena e sana vendere sana se sono stati problemi se sono stati dolori anche dolori fisici tu arrivi a purificare tutto questo come viene sciacquata come dice la mia dottoressa sarai sotto la cascata di luce bianca e questa luce bianca tt ti sciacqua tutti male tutti blocchi insomma con la temperanza finiamo cosa che cosa c'è questa cosa ti porterà questa ok io vedo proprio che tu qua studi qualcosa impari qualcosa o qualcuno ti porterà un insegnamento potrebbe essere anche un uomo perché qua è un maestro di asilo oddio maestro di tennis questo era per me c'è un bellissimo ragazzo maestro di tennis ho visto molto bello io quando l'ho visto ho dimenticato come mi chiamo e ogni volta che lo vedo divento una una non so cosa cosa mi succede dimentico proprio parlare va bene maestro di tennis ok allora una persona un insegnante un insegnamento insomma andiamo a vedere il consiglio il consiglio di concentrare essere più concentrata mentalmente ti servirà proprio il potere della tua mente vediamo mi serve un'altra carta potere della tua mente a me mi dicono che tu non devi avere paura non devi cercare di colmare le tue emozioni pensieri negativi essere molto concentrata e tutta come un treno credere in tuo successo andare avanti e non importa se ci sono difficoltà tu non ti devi fermare questo è il consiglio se tu farai questo che ti sto dicendo guardate come va a finire lei è arrivato con questo gabriolette come una superstar tutti applaudiscono tutti sono felici insomma questo e io ho finito questa stesa raccontate come siete trovate mettete like io vi saluto vi bacio ciao ciao ciao